Noi oggi siamo qui per festeggiare il mio innamoramento. È una persona decisamente speciale. L'uomo più dolce che ci sia su questa terra. L'uomo? Eh, cosa? Mi sa poco a mano di... Oddio, mi sento male per me! Papà, ma chi sono queste persone? Sono la famiglia dell'uomo che intendo sposare. È così, no? Non ti senti almeno un po' più leggero? È mezzo e mezzo. Piano col bananone che se buca è finita la vacanza. Quindi sei già se maschio o femmina? Sì, femmina. Sashimi, la chiamiamo sashimi. Ce li hai visti come sono, no? Lazio! Forse in Lazio! Non c'entrano niente l'uno con l'altro. Quindi che vuoi fare? Ha fatto il matrimonio? No. Sì, fa mozzo un po' il matrimonio. Ma che sei a fare, papà? Ti riconosco più. Questa mette in discussione tutto per te. Per una volta navita, guarda d'intorno. Lui è tuo padre. Non lo puoi cambiare. Io sono distrubbata perché voglio una famiglia normale. Ma lasciati sorprendere ogni tanto dalla vita che è bella, sai? Io non ho mai sentito così lì, però quando sto colto. Comincio a capire perché mio padre ti voglia sposare. Comincio a capire con